Le scelte che sono state fatte sono state a vantaggio di un rafforzamento che è necessario e anche urgente dei nostri centri servizi territoriali che si trovano ormai da diversi mesi ad affrontare una misura importante che è quella del reddito di inclusione. Questa misura ha coinvolto fino ad ora più di 30.000 persone quindi 30.000 sono state le domande, 13.000 fino ad ora sono state quelle validate dall'Inps e in questo momento ci sono circa 6.000 pratiche che sono in lavorazione nei centri servizi territoriali. Alla presenza dell'assessore al ramo e del direttore generale del comune Attilio Auricchio si è tenuta oggi una commissione consigliare per fare il punto sulle procedure relative al bando di concorso per assumere 169 figure specializzate a tempo determinato, una operazione finanziata nell'ambito del piano operativo nazionale inclusione in merito al reddito di inclusione, una misura nazionale di contrasto alla povertà. Nel corso della seduta ci sono state varie richieste di chiarimenti che sono state soddisfatte con particolare riguardo ai titoli di accesso e dalle procedure preselettive. I posti da ricoprire sono quelli di 54 assistenti sociali, 37 amministrativi, 50 educatori professionali, 7 informatici e 21 psicologi. Un'equipo multidisciplinare assunta a tempo determinato, nello specifico per 15 mesi perché fra 15 mesi la misura del REI si concluderà, almeno secondo quello che il Ministero fino ad ora ci ha comunicato e quindi riguarda strettamente queste procedure, quindi non il rafforzamento in senso lato dei centri servizi territoriali. Le domande per accedere alla selezione sono state tantissime e quindi anche questo chiaramente ha posto ancora più domande, più quesiti, più dubbi rispetto alla possibilità di fare diversamente la selezione. Purtroppo i posti sono limitati rispetto invece ad un numero di richieste che è stato veramente enorme, circa 13.000 domande a fronte di 160 assunzioni circa.